buongiorno a tutti incomincia la giornata con la lavatrice oggi è la domenica ultima domenica che lavoro questo mese qua per me è stato un po incasinato ma lo stesso ecco perché ho pubblicato anche poco perché tutti i giorni anche se poche ore però tutti i giorni ed è stato un po difficile uno mi diceva non si stanca si sono stanca però e cosa vuoi cosa vuoi fare niente facciamo la solite pulizia se volete rimanete con la ragazza devo buttare via una maglia perché non so cosa è successo ma guardate qua sono venuti tutti i buchi allora ogni tanto quando quando vedo queste cose qua le butto via ecco ogni tanto non c'è bisogno di fare le catering ogni 3 4 mesi le butto via le cose che hanno venuto ecco e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto facendo tutte le cose senza voglia. Di solito chiamo pulizie motivazionali, ma oggi ho bisogno di una motivazione. Capita anche a me. Queste sono le pulizie obbligatorie. Ecco, possiamo chiamarle pulizie obbligatorie questa volta. Grazie a tutti. 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 tutti. a tutti. tutti. a 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 tutti.